Il presidente del Consiglio Comunale di Agropoli, Massimo Laporta, ha convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione presso l'Aula Consigliare del Comune di Agropoli per il giorno 25 giugno 2021, alle ore 10, per la trattazione dei seguenti argomenti. Interrogazione ed interpellanza del consigliere Mario Pesca al sindaco e al presidente del Consiglio su delibera da estendere agli altri comuni del Cilento per chiedere al governo, al Ministero dei Trasporti, RFI e Regione Campania che l'alta velocità attraversi e sosti anche nel Cilento e in particolare ad Agropoli. Punto 2. Interrogazione ed interpellanza del consigliere Giuseppina Botticchio al sindaco in merito allo stato del finanziamento regionale per la rimozione della posidonia spiaggiata. Punto 3. Approvazione dei verbali della seduta precedente. Al quarto punto invece la rinegoziazione del mutuo in essere tra intesa San Paolo, S.P.A. e il Comune di Agropoli per effetto dell'atto di assegnazione di beni del 24 marzo 2016. 5. Proposta del consigliere Agostino Abate su approvazione e regolamento per il funzionamento del centro sociale polivalente. Al numero 6. Proposta dei consiglieri Salvatore Coppola, Eleodoro Di Nardo e Gianluigi Verrone su approvazione e regolamento per il funzionamento del centro sociale polivalente. Settimo punto, modifica regolamento generale delle entrate comunali e approvato con deliberazione consiglio comunale 45 del 14 luglio 2020 e regolamento delle rateizzazioni approvato con deliberazione consiglio comunale numero 74 del 27 ottobre 2017. Al punto 8 approvazione e regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. 9 approvazione e regolamento corpo di polizia municipale, 10 approvazione e regolamento di polizia urbana, 11 approvazione e regolamento speciale per l'armamento del corpo di polizia municipale, 12 adozione e aggiornamento del regolamento comunale per l'assegnazione di contributi economici, benefici e patrocinio della città di Agropoli, settore cultura e turismo. 13 approvazione del nuovo regolamento per la gestione e l'assegnazione degli spazi aquei ai fini di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione dal comune di Agropoli. Qualora tale seduta dovesse andare deserta, il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione presso l'aula consigliare del comune il giorno 28 giugno 2021 alle ore 10 per discutere lo stesso ordine del giorno. Grazie. 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 Grazie a tutti.